Melissa Panarello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. E benvenuta, davvero benvenuta qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per raccontare l'ultimo, il nuovo romanzo di Melissa Panarello, Storia dei miei soldi, romanzo pubblicato da Bonpiani. Noi ci siamo trovati qui più o meno un mese fa per un libro che raccontava ben altra storia, insieme con Melissa Panarello, con un libro per bambini, La palla, le illustrazioni di Francesca Daphne Vignaga, un libro pubblicato da Gallucci. E adesso è una storia profondamente diversa, ovviamente. Ricordo che Melissa Panarello, autrice di romanzi e saggi, agente letterario, tra essere autrice, Melissa Panarello, ed essere agente letterario, per così dire uno scavalca, la staccionata va dall'altra parte. E come viene gestito il fatto di essere autrice e poi anche, nello stesso tempo, agente letterario? Con molta naturalità, molta naturalezza. Io ovviamente da molto più tempo faccio l'autrice e l'agente letterario soltanto da pochi anni, tre, quattro anni, quindi da venti faccio l'autrice, per cui sono riuscita, cioè riesco a gestire le mie due vite in maniera molto serena e molto naturale. Dopotutto, chi fa i libri si ritrova spesso a lavorare da una parte e dall'altra nella staccionata. Molti scrittori sono editor o editori e viceversa. Per cui io ho scelto l'agente letterario perché è la veste in cui mi trovo meglio, perché insomma mi piace molto comunicare, quindi mi trovo il mio spazio privato con i libri, scrivendo libri, e poi mi trovo il mio spazio più pubblico e più estroverso con l'agenzia letteraria. Qualcuno dei nostri ascoltatori, Melissa Pannarello, si potrà chiedere ma che fa un agente letterario? Sarà una domanda forse troppo banale ma anche necessaria. È una cosa che si chiedono in molti perché è una figura poco conosciuta, perché ovviamente è una figura che lavora dietro le quinte. L'agente letterario è come il procuratore di calcio, è colui, colei, che fondamentalmente trova una casa per il tuo libro, la casa più adatta. Ha iscritto un libro, lo propone un agente letterario e lui o lei trovano la casa editrice più adatta a pubblicarlo semplicemente e seguono ovviamente tutto il percorso del libro dalla firma del contratto, quindi controllano che il contratto sia adeguato alle esigenze dell'autore e fino alla pubblicazione. E non è semplicemente l'agente letterario una questione di soldi, innanzitutto, è molto bello ciò che ci ha detto Melissa Pallaveglia poco fa, l'agente letterario trova una casa per il tuo libro ed è importante. Sì, un agente letterario non è un avvocato, cioè nel senso non è una persona, un cosiddetto passacarta, almeno non dovrebbe esserlo. Poi ognuno lo fa anche a modo proprio. Per me è molto importante avere un rapporto non amicale con i miei autori, con le mie autrici, perché l'agente letterario non è un amico, però è una persona che può consigliarti, che può indirizzarti verso un percorso che vede adatto a te. Quindi l'agente letterario è anche col quale o con la quale in qualche modo costruisce il tuo percorso di autore. E storia dei miei soldi ha trovato caso da buon piani. Questo è il nuovo romanzo di Melissa Panarello e vorrei proprio cominciare questa conversazione sul libro partendo da che cosa? Partendo dall'immagine di copertina, perché questa immagine ci porta già a respirare l'aria, l'ansia, il tema di questa narrazione. Sì, la copertina è molto precisa. Cioè la copertina raffigura questa donna che ti guarda dallo specchio, che è una specie di medusa. Quindi da una parte si introduce il tema della dualità, dello specchio di queste due donne che incontrandosi si specchiano l'una nell'altra. E c'è anche il tema della donna, come dire, oscura, dell'oscurità, del femminile, che ti guarda e ti trasforma in pietra. È una copertina, secondo me, molto azzeccata, non c'è dubbio. Eh sì, che ti trasforma in pietra, ma in ogni caso questo libro è un libro anche di trasformazione. E la trasformazione in queste circa 200 pagine è una trasformazione importante per come Melissa Panarello ci racconta questa storia senza girarci intorno, andando proprio dentro, dentro i gangli, potremmo dire, tirando fuori, tirando fuori da questi sentieri carsici, delle cose che non avevamo mai letto. E questo è molto, molto importante. Ma non per stupire. Non è che segue Melissa Panarello il mestiere di scrittrice pure Patele Bourgeois, come dicevano tempo fa, secoli fa in Francia. No, no, è un elemento di scrittura, di narrazione. Ma soprattutto la narrazione è qualcosa che serve per guardarti dentro. Quando restiamo a lungo soli, popoliamo il vuoto di fantasmi. E quanti fantasmi ci sono in questa storia dei miei soldi? Moltissimi, a cominciare da Clara, che è appunto la protagonista di questo libro. È una donna in carne e ossa, ma lei stessa è un fantasma. Lei stessa è qualcosa che è esistita nel passato e che oggi vive in una forma in qualche modo fantasmatica. E la vita di Clara è una vita che è sopravvissuta ai fantasmi che in qualche modo e ai cadaveri che si è lasciato dietro. I fantasmi non sono altro che i ricordi, sono il ricordo di ciò che siamo stati, il ricordo di ciò che pensavamo di essere e di questo Clara vive, di questo Clara si nutre, del ricordo di ciò che è stato, di ciò che è stata lei stessa, che è stata la sua vita. E di questo racconta la narratrice di questo libro, che sarei io, che è appunto il coprotagonista di questo libro e che è appunto anche la narratrice. Dunque è il ricordo, la memoria che in qualche modo si rende fantasma. Tornando indietro nel tempo, Melissa Panarella, più o meno 20 e qualche anno fa, non ricordo bene, Melissa Panarella pubblicava il famoso libro Cento colpi di spazio ed è un libro un libro sull'amore, nonostante tutto, ma un libro anche sulla solitudine. Qui la solitudine la ritroviamo. La ritroviamo, no? Anche in questa frase in esergo, quando restiamo a lungo soli, popoliamo il vuoto di fantasmi. E questa solitudine è una solitudine che pesa anche in questa storia. La solitudine forse si può dire che è il grande tema di tutti i miei libri. Io ho sempre notato la differenza, ho sempre diviso gli autori in due tipi, gli autori estroversi e gli autori introversi. Gli autori estroversi fondamentalmente ambientano e raccontano le proprie storie fuori dalle mura casalinghe, per esempio. Sono storie che accadono molto in strada, molto nel mondo. E poi ci sono gli scrittori introversi che fanno accadere le cose dentro le mura casalinghe, dentro casa. Ecco, io sono sicuramente una scrittrice introversa, perché quasi tutte le mie storie avvengono dentro casa. Adesso la letteratura non è come i film, per cui non hai abbastanza soldi da poter investire per fare delle esterne. Puoi fare quello che ti pare, perché appunto puoi ambientarlo dove ti pare. Però appunto lo scrittore introverso preferisce gli interni, perché gli interni possono dare quel senso di solitudine che è una sua cifra e nel mio caso è sicuramente una mia cifra. Io sono una persona solitaria e quindi questo inno anche alla solitudine che è la mia vita stessa in qualche modo entra di prepotenza poi fra le mie pagine. Entra di prepotenza nelle pagine ed entra di prepotenza anche la questione del doppio letterario perché perché è questa una chiave narrativa anzi la chiave narrativa di Melissa Panarello. Che difficoltà c'è stata? Sei difficoltà c'è stata Melissa nel raccontare questo doppio letterario in questo romanzo? È stata una difficoltà molto diversa dagli altri doppi che ho raccontato in precedenti romanzi perché Clara è un doppio che tira fuori veramente tantissima rabbia tantissimo furore tantissima tantissima solitudine anche disperazione follia quindi è molto facile caderci dentro è stato molto difficile mantenersi in bilico su questo burrone da cui potevo cadere da un momento all'altro adesso sembra molto melodrammatico detto così dopo tutto è solo scrittura è solo letteratura però chi scrive qualcosa intensamente come io spesso mi ritrovo a fare io non riesco a vivere in maniera distaccata le cose che scrivo ci stavo dentro ci stavo dentro ci sono ancora dentro c'è comunque una furia che non si è istinta con la fine della scrittura mettendo la parola fine a questo romanzo ecco eh sì mettendo fine alla parola di questo romanzo però prima di mettere fine alla parola del romanzo bisogna guardare in faccia la vita la vita che che ti presenta il conto no? e non è semplicemente un conto di soldi anche se qui i soldi sono i protagonisti per eccellenza no? di questa storia ma i soldi sono sono modo per capire la personalità il carattere ma soprattutto torno a utilizzare questa questa cosa sono anche il modo per analizzare i sentieri carsici che abbiamo del nostro della nostra coscienza Melissa Panarello o no? ma i soldi raccontano molto più di quanto pensiamo i soldi raccontano anche il modo in cui riusciamo ad amare quindi come siamo eh sai i soldi sono strettamente legati alla generosità quindi al modo che abbiamo di donarci e di accogliere anche i doni dunque è così è una cosa così profondamente legata al nostro sentire che per quanto sia materiale per quanto i soldi siano materia non possono allo stesso tempo essere qualcosa di estremamente spirituale di estremamente eh appunto anche emotiva sentimentale perché i soldi raccontano anche la nostra storia sentimentale la nostra storia familiare cioè come siamo stati cresciuti attraverso quali quali problemi anche economici o quali o quali disattenzioni economiche siamo stati cresciuti e come e come ci nutriamo perché anche lì i soldi hanno moltissimo a che fare con il nutrimento e il nutrimento anche lì è amore capisci sono cose così connesse che che i soldi non possono raccontare soltanto del tuo conto in banca raccontano cose molto più antiche e molto più profonde il magistrato Falcone diceva per ben altre cose ovviamente segui l'odore dei soldi e scoprirai che sei sulla strada giusta no 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 è esattamente così io anche con questo libro ho usato i soldi come mappa cioè come bussola per tracciare anche i movimenti di questa persona non mi sono inventata niente in questo perché se ci pensi tutte le volte che scompare una persona la prima cosa che si fa è vedere i suoi movimenti bancari perché attraverso quelli che noi conosciamo gli spostamenti all'interno di un territorio e di un tempo di un individuo quindi i soldi raccontano anche tecnicamente la storia di una persona cioè che cosa ha fatto perché non siamo soltanto quello che abbiamo guadagnato quello che abbiamo accumulato ma anche quello che abbiamo fatto che abbiamo realizzato al di là di quello che noi pensiamo di noi stessi di essere brave persone o cattive persone o persone geniali o persone stupide conta quello che abbiamo fatto e i soldi ci fanno fare delle cose delle cose molto precise sono quelle scelte che poi ci determinano però però in questo romanzo Clara Clara T ha bisogno di soldi ma i soldi non li hai allora deve trovare il coraggio per trovarli questi soldi allora che cosa fa incomincia a raccontare a raccontare delle storie ed è straordinaria questa cosa non tanto della sostituzione dei soldi con il raccontare storie ma quanto il raccontare la storia possa essere un atto persino terapeutico sì Clara vuole in qualche modo lasciare un testamento di sé e sa che l'unica cosa che le è rimasta l'unico modo per lasciare una traccia è il racconto di una storia perché pensa di non esserci riuscita in nessun altro modo pensa che di lei appunto possa non rimanere come dicevamo prima neanche fantasma l'unico modo per lasciare il tuo fantasma è che sia raccontata una storia e trova nella narratrice ovvero nella mia alter ego letterale Melissa trova la persona adatta secondo lei in quel momento a raccontare le sue storie e quindi a lasciare finalmente una traccia qualcosa appunto di materico perché è quella la sua ossessione cioè lasciare lasciare materia materia viva e le storie sono materia viva per quanto ci sembrino in realtà etere aeree più che altro andiamo invece nella parte per così dire eterea perché il film è quanto mai sì reale finché si vuole ma percorre un senso etereo della vita e qui la parola film ha una un'importanza fondamentale sì film allora Clara è un'attrice diciamo la avrebbe citato in un film tratto da uno dei miei libri ecco quindi la sua vita professionale si è formata con i film con il lavoro proprio d'attrice ma è un lavoro che lei non si è scelta è un lavoro che lei pensa di non saper neanche fare di non aver mai voluto fare quindi ecco in questo senso l'identità di Clara è molto fumosa perché è un'identità che si è formata attraverso lo sguardo degli altri quindi non è una vera identità è qualcosa che non le appartiene è il suo stesso essere attrice è qualcosa che non le appartiene lei è stata scelta dal suo agente che poi è la stessa persona che l'ha fregata e che l'ha insomma derubata l'ha tradita è stata scelta dagli uomini è stata scelta da qualsiasi cosa e non ha mai veramente scelto l'unica cosa che forse ha scelto di fare cioè diventare madre ecco si vede portare via anche quello quindi ecco Clara è una persona con l'identità completamente spezzata molto molto fragile e molto molto spezzata sì essere stata così famosa è una maledizione che ti porti addosso per sempre esserlo stata per ragioni legate al sesso è anche peggio i datori di lavoro ti vedranno sempre nuda anche se indossi il grembiule sporco di sangue di bue i clienti di qualsiasi negozio o attività ti molesteranno nei modi più creativi io poi anche se ero fuori dai giochi avevo comunque continuato a fare delle cose piuttosto popolari e così via ecco essere stati famosi è una maledizione quindi anche i soldi che arrivano proprio per essere stati famosi famosi dunque a che servono Melissa? anche quelli possono essere una maledizione infatti Clara si ritrova pacificata nel momento in cui li perde cioè nel momento in cui li perde finalmente trova la pace perché sa che non può più fare casini perché i soldi se tu non sai gestire le tue risorse possono complicarti la vita invece che facilitarla possono complicarla dal punto di vista materiale semplicemente della gestione proprio delle tue risorse economiche la possono complicare anche dal punto di vista sentimentale quindi Clara come tante persone nel momento in cui i soldi non li ha più finalmente trova la pace finalmente non ha più nulla da perdere e quindi i soldi possono sicuramente essere una maledizione se pensi di non meritarteli se pensi se non li sai usare se per qualsiasi ragione se le fatti senza sapere come le fatti se le fatti tramite un lavoro che magari appunto non ti apparteneva davvero ovviamente anche la mancanza di soldi può essere una gran maledizione dunque sicuramente dunque è molto anche di come tu percepisci il denaro di come tu ti percepisci attraverso il denaro io conosco persone molto ricche che si percepiscono povere persone molto povere che invece pensano di avere grandi ricchezze la percezione del denaro fa la differenza è tutto lì a proposito di percezione ma avere la percezione di essere come dei corpi svuotati e non avere nemmeno la possibilità di cambiare vita a un certo punto del libro verso la fine se ricordo bene dice adesso puoi cambiare ancora la tua vita il nostro film ecco c'è ancora questa possibilità senza ovviamente rivelare come va a chiudere questa storia ma certo certo c'è sempre quella possibilità c'è sempre una possibilità per 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 ritrovare una speranza per darsi un nuovo destino un nuovo futuro per ritrovare la felicità forse certo una perbenza anche se non è facilità una contentezza una soddisfazione però ci sono persone così abituate al proprio male così che stanno così bene ormai nel proprio dolore da non volersene tirare fuori e lì non puoi fare niente cioè chi non non desidera aiuto chi non chi è abituato appunto a vivere a vivere nel dolore non non pensa di meritarsi il bene quindi non l'accetterà mai persone come Clara non possono stare nel bene possono solo vivere nel male perché è la cosa che più le consola che più le le rende sicure di sé vedo qui una sottolineatura tra le varie i figli insegnano il tempo che è una cosa crudele ma necessaria ora questa frase a volte leggendo leggendo i libri incontri delle frasi che che ti fermano nella lettura no e a volte chiudi anche il libro perché quella frase quella frase ti ha colpito è come questa i figli insegnano il tempo e in che modo i figli a te insegnano il tempo ma guarda è una cosa che io non avrei mai potuto pensare prima di avere figli magari c'è gente più saggia di me che è arrivata a queste conclusioni prima di avere figli ma io questa cosa l'ho sentita molto nel momento in cui ho avuto il mio primo figlio poi la seconda i miei figli mi hanno insegnato il tempo il senso del tempo lo scorrere del tempo mi hanno insegnato che il tempo è circolare non è una linea retta infinita mi hanno dato il senso della vita perché mi hanno messo davanti alla possibilità della morte sembra molto scuro quello che dico però è una cosa che spesso chi ha figli chi diventa genitore sente che sia un padre che sia una madre questa paura tavica di morire prima di morire prima del tempo di lasciare i nostri figli soli o peggio che possono lasciarci loro prima del tempo ecco non voglio neanche parlarne perché è veramente molto doloroso solo pensarci però ti mette i figli ti mettono davanti al tempo a come puoi dare un senso a questo tempo e a cosa è il tempo e quindi ti fanno diventare adulto per questo perché gli adulti si differenziano dai bambini dal senso del tempo che hanno chissà se nel forziere di legno si può mettere anche la parola tempo a Melissa certo è il tesoro più grande senza dubbio senza dubbio certo ricordo i nostri ascoltatori che il romanzo storia dei miei soldi corre per il premio strega e il romanzo di Melissa Panarello è stato presentato da Nadia Terranova ed è stato un bel regalo vero la motivazione molto moltissimo quando c'è una lettura così profonda sentita autentica insomma è un piacere ballare ballare insomma mettersi in gioco in questa cosa che è molto bella e quello che ha fatto Nadia è veramente stato un grande dono assolutamente e prima di salutarci Melissa Panarello qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni guarda sto leggendo un altro un altro candidato al premio strega che è Voltolini Invernale che è un romanzo molto potente molto molto potente molto bello intensissimo Invernale è già bello dall'immagine di copertina pubblicato dalla nave di Teseo grazie davvero del tempo che ci hai dedicato Melissa Panarello e buona giornata grazie a te grazie